All'epoca lì avevo Conte come allenatore, quindi un allenatore che all'epoca era tosto, insomma esigeva tanto, pretendeva, quindi si capiva già quindi si capiva che sarebbe diventato sicuramente un grande allenatore, però allo stesso tempo deve avere la mentalità per poter lavorare con lui. Io ero giovane, lì forse uno dei più grossi rammarico che ho è quello, che ero troppo giovane e magari non ero disposto a fare certe cose che lui voleva, che invece poi andando avanti col tempo capì che erano le basi per arrivare a certi livelli, quindi un rammarico che ho è quello. Però io lo ricordo come un grande motivatore, una grande persona, quindi un grande allenatore. Questo rammarico che ho nel non aver sfruttato forse l'occasione di aver lui come allenatore, che sicuramente poteva cambiare anche la carica.